Tutti a lavoro nel cantiere del Carnevale Aghettino dell'Orciolaia, Giuseppe Marconi, non manca molto, ormai ci siamo. Ormai ci siamo, però tutti al lavoro, è una grandissima parola, tutti al lavoro, siamo tutti qui, ecco, non è che c'è una grandissima, vedi che gioventù che abbiamo. Che novità ci sono? Quest'anno abbiamo un grande carro di Carnevale per i nostri bambini della città, che attualmente è super seguito, che è Mascia e Lorzo. È veramente bello e invito tutti a venire a vederlo perché effettivamente ne vale la pena. È una bella cosa, a cui stanno lavorando i nostri pittori, scultori, incollatori e così via. Da ottobre ci stiamo lavorando, siamo quasi alla fine, speriamo che venga fuori, anzi, sicuramente viene fuori e speriamo che i nostri bambini lo apprezzino perché effettivamente è molto molto bello. E la politica ci sarà? Ci sarà anche un po' di politica, sì. L'argomento non si può dire più. A rettina, azionale, banche e così via. Le banche, non poteva mancare. È logico. E allora? Abbiamo dovuto cambiare il tema all'ultimo momento perché il tema era un'altra, abbiamo lasciato un soffitto a un altro personaggio, abbiamo messo le banche. Allora, quanto lavoro c'è dietro il Carnevale? Molto. Sì, un bel impegno e per ora tiriamo avanti. Quanto tempo prima cominciate a lavorarci? Alla spicciolona diciamo, perché quello è importante, parte uno, poi quell'altro, ma tra quattro mesi sono, è vero Carlo? Prima uscita? Domenica 31 gennaio in Via Fiorentina alle ore 15, vi aspettiamo tutti e poi replica il 7 febbraio sempre in Via Fiorentina. Ci saranno anche dei gruppi molto interessanti, molto belli quest'anno, per cui oltre ai carri avremo anche molta coreografia a terra. Quindi questo è molto importante perché, visto l'età media, penso che il futuro del Carnevale sia da orientarsi in mascherate e musica a livello di strada, perché fare i carri diventa sempre un impegno molto più grande, un impegno non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista, diciamo, di leggi che devono essere osservate, per cui sicuramente in futuro dobbiamo andare in quel senso lì. Perché altrimenti nei cantieri i giovani non vengono, gli anziani diminuiscono sempre più, per cui dobbiamo andare in quel senso lì se vogliamo fare e continuare il Carnevale ad Arezzo.